Ragazzi questo è l'episodio 0 di una nuova serie fighissima già dal primo episodio capirete quanto è bella sta serie per registrarla siamo morti dalle risate ragazzi io sto ancora ridendo adesso che la sto editando è meraviglioso davvero questo video è uscito benissimo almeno a Matt e Marci ha fatto morire dalle risate però è solo l'episodio 0 ed è soltanto per farvi vedere la mappa dal prossimo episodio la mappa verrà ricaricata e la giocheremo seriamente perché in questo video abbiamo sclerato abbiamo riso E' giusto per farvi vedere più o meno come sarà la serie che tipo di mappa giocheremo e spero che possa piacervi iscrivetevi ai canali di Matt e Marci che trovate la descrizione e un'altra cosa ragazzi sto per innescare una bomba a mano per spegnere questa bomba dovete lasciare mi piace entro 5 secondi quindi ragazzi se non volete che esploda dovete lasciare mi piace via Stavolta vi siete salvati buona visione Ciao a tutti i libri del tubo Eh i libri del tubo sono Charlie e benvenuti in questa nuova video in campagna di Matt a Marci No non mi chiamare Matt a Marci E di Matt2594 anzi Matt2594 Matt Matt Lui si chiama Matt Matt Prima di iniziare il video dovete mettere un hashtag nei commenti Sì con scritto hashtag Matt a Marci Matt 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 Abbiamo un hashtag war qui un hashtag war attenzione Allora ragazzi siamo qui in questa bellissima CTM map per chi non sappia cosa sono le CTM sono mappe in cui bisogna completare Esatto Marci pro nell'inglese Bisogna completare un monumento arrivo anch'io e niente questa è una baffa che durerà pochi episodi Perché Durerà pochi episodi perché adesso mi frego tutta sta cesta Oh ciao 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 me la frego tutta me la sono fregata tutta ok troppo tardi Sicuramente No E quindi dobbiamo completare il monumento reggiamo allora si chiama float Reggio Dobbiamo trovare e completare il monumento Marci cerchi il monumento Aiuto sono di sotto Dove sei Dove sei Matt L'ho salto nell'acqua Ah Ah Non ci faccio No No raga non vale il TP No non vale in questa serie no Dobbiamo trovare la wool nelle ceste non dobbiamo colorarla Dobbiamo giocare in easy oppure più più alto Dobbiamo stare Nei confini della mappa Mentre io leggo loro Non lo scopano ok Sono morto anch'io Dobbiamo sopravvivere in ogni modo che ci permette il gioco No E dobbiamo craftare No 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 Cosa no 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 Nonno a me non lo dici Che succede Charlie Moon Cosa ma che Ma avevamo detto che i TP non valevano Love your sheep Una pecora che mi ama Oh che è successo Oh oh Ma che cazzo Ma che cazzo è E' pieno di mob No ti prego No No Aiuto aiuto No riportatemi sopra Riportatemi sopra Ho paura Io ho l'inventario pieno Ho l'inventario pieno Ragazzi perdo l'inventario Ragazzi perdo l'inventario Ragazzi perdo l'inventario Perdo l'inventario L'ho perso Ok Ok No no Ma io mi sono venuto per salvarti Ciao Adesso mi cedono me Ragazzi ma le cazzo E' completo e monumento Si Deve Dobbiamo trovare il monumento Dov'è sto monumento? Ma come fai No Charlie For camisa c'è dietro un crito Oh paricatro Oh Oddio C'ho aiuto io C'ho aiuto io Ok ok Allora dobbiamo trovare un monumento qui Questa è la cosa importante Trovare il monumento Qualcuno di voi sa dov'è un monumento? Avete visto? Sì ma se non mi fai neanche fare Non mi hai fatto fare neanche fare una spada Raga ho trovato qualcosa Ma io sicuramente ancora Carli sei una cacca Marci hai qualche idea? Ragazzi volevo farvi una domanda Ehm Cosa ne hai pensato delle droghe e Jerry? Io sono per sbaglio Io 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 per sbaglio Se no Sono finito in creativa Non lo so come è successo cacchio Dove sei andato brutto schifoso? No sto cercando di capire dove cazzo dovevamo andare noi Brutto schifoso! Noi siamo della creative! Ma io non ho capito cosa dovevamo fare Nessuno ha capito Allora ragazzi Adesso è tutto più chiaro È tutto più chiaro No secondo me non bisognava scendere No infatti non bisognava scendere Tutti mi conoscono Non tutti mi conoscono su Charlie E non tutti sanno che io nelle mie serie Non tutti sanno che è una volta in creativa Con tonno Con tonno Oh ma già solo io non sono padre I have pauren Ok ragazzi scusate questo piccolo momento cheat Ma abbiamo sbagliato a cadere Non potevamo più risalire E sennò ammazzandoci quindi GG Adesso faremo tutto più o meno in modo legale In modo molto legale E niente Ragazzi scrivete nei commenti se volete che questa serie si chiama la cheatcraft d'oreenboy Perché secondo me è il nome più appropriato Ragazzi sono finito casualmente in un monumento Non sto scherzando stavolta Casualmente veramente Tipati da me maledetto Tipi Tipi Ma da marci Ma da marci Charlie Moon Ma che cazzo Nooo Posso portare una piccola? Ragazzi dobbiamo trovare Dobbiamo trovare il primo dungeon Oh primo dungeon Secondo me è Credo che sia una cosa dire Allora secondo me è da sto lato Oh madonna metto davanti alla mia faccia Matt 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 dove sei? Matt Matt Oh Ho sentito un'esplosione No non è successo niente Aspetta Cassinia comunque dai Quella cosa si incazza Cazzo domene della crisi Voglio stare Sono easy Sboccing Line No tomorrow Sto ammazzando Solo lo zombie Solo no Eh l'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato Cosa hai trovato? Guardate cosa c'è qui Guarda Adesso vi faccio vedere come Guarda Mi vedete Charlie Non ha senso Non ha senso perché non sappiamo cosa dobbiamo fare Io lo so Io lo so ma voi mi uccidete Charlie Eh dimmi Sinistra Si 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 Sinistra Anche io Stai laggando Matt No come sto laggando Stai laggando anche male Un droga stai laggando No non l'ho capito Un droga stai laggando Un droga stai laggando Matt è una droga Ok 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 Dove sono morta? Dove sono morta? Qualcuno sa dove sono morta? Si Tipo ti do No ma Ma io Ok io sono arrivata in un punto che non so che cos'è Devi tiparti da me perchè sto morendo C'ho trovato roba qua vicino No 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 Prendi prendi la mia roba Ma io ho trovato Non no 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 Non soltanto Vabbè mio Non so che cazzo ho trovato tela Oh che bello Oh io voglio Io voglio essere quello Oh che cazzo Quanti ne hai trovati Vomity leggings Vomity leggings Vomity leggings Oh non mettete nessuno Che è che Oh Non posso Ma Adesso è stare le pecore No ho riscritto questo qui A cosa che ti pare Un pecore fag Cosa Perché non posso Tiparmi Cosa Eh Che è che Una torta Va bene Mi sa che Sta Ah Ah Dai Allo più Ma Non ne Non ne Sì Ah Simpatici Io sto tornando A prendere la roba In modo legale Stavolta Più o meno Quello si mangia i biscotti Ma tanto fa niente Ok Ok sono Sono qui Ci sono No Non c'è 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 No Lì c'era Ho trovato qualcosa Qualcosa di completamente inutile Ma l'ho trovato Sto tornando Ragazzi La centropugliese Sto tornando No cazzo No vaffanculo No vacgiocovic Marci 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 No 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 cazzo Avete rotto le scale Le scale Infatti oltre che le scale Ok ho sistemato un po' le cose Ho ripreso tutte le ceste Adesso sto scendendo nel dungeon Così facciamo un fine episodio dove facciamo almeno qualcosa Io sono nel dungeon Sì infatti perché loro continuano Loro continuano A morire Abbiamo deciso di non cittare troppo Perché Non cittare troppo Oh mio dio cos'è No devi venire a vedere sta roba Marci uccidimi il creeper Il creeper Il creeper Marci non così Eh Ciao Charlie Non ho niente Marci Non ci salvami Marci salvaci Ma perché sono anche lì Ma sono io li vedo verdi Sti silverfish Verdi Sono verdi Sono te Guarda il tp che non me lo so fare Non sono più Ok raga Non dovete mettervi davanti mentre scavo Altrimenti vi colpisco Fatti Marci Fatti Se volete morire allora mettetevi Ma porca troia Marci Vaffanculo Marci Fattelo dire Ma che cazzo Non ce l'ho Oh si 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 No 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 Marci madonna se ci morivo Madonna se ci morivo Marci Ma trasmetti di mangiare i biscotti Stare giustando Perché Marci 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 Mangia i biscotti Non lo sa bene Hoppe Oh madonna Ma che cade Marci Matonate Oh cutulette panetta Oh qui c'è una cesta Qui c'è una cesta Cutulette Mio 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 Io ho dovutovedermi di tp Sono qui Eh Cado in acqua Sì Marci Sì No ma tranquillo Sei calmo Ma sono di Io ammazzo qualcuno qua Ok ragazzi Marci È impazzito Marci Le droghe Ok quelle leggi cazzo marci dimmi che non sei stato tu ho un mezzo cuore marci no non è vero è caduto un sacco di roba nella lava aiuto marci sali marci aiutami a salire marci aiuti più da me forse fai prima oddio ma cazzo charlie ma che cazzo è oh io sto cercando di ammazzare perché vengo io ma sei scemo perché sei venuto tu ho sbagliato quindi ragazzi per questo video è tutto sappiate che non abbiamo fatto niente ma per registrare così mi sono divertiti di fare qualsiasi altra cosa non voglio essere oltre la scelta mi piace mi piace perché so che possiamo fare sì mille sì da matt e charlie ma c'è tutto scrivete nei commenti hashtag ragazzi non mentite e rimettate la serie e smettila di mangiare oddio l'ho ucciso con un colpo solo noi ci rivediamo in un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti